Subliminale, idealizzato, quantizzato, schematizzato, scomposto e ricomposto, mutato di forma, cambiato di posto, di destinazione, d'uso, renderizzato, elettrificato, bioingegnerizzato. Questo è l'uomo di oggi, come viene descritto dai giovani artisti che danno vita a questa collettiva micro room. Il percorso può partire da Alessia Gatti, che scompone nella logica da settimana enigmistica sia il luogo principe del pensiero sia il suo strumento. Così la testa annega nel nitore ottico di definizioni orizzontali e verticali che permeano l'ambiente circostante. Ambiente che trae la propria energia, come è ovvio, dalla presa di corrente elettrica, oggettivata e portata ad una sorta di dimensione sovrareale nell'opera di Linda Antonietti. Così, dall'uomo ridotto a schema e dall'energia elettrica, prende forma l'uomo privato dei suoi orpelli, schematizzato e computerizzato in fase di pre-rendering che ci offre Luca Lillo. Ma una volta digitalizzato, secondo le caratteristiche proprie del medium, Massimiliano Pelletti ci mostra che l'uomo può diventare altro. La forma resta la stessa, è vero, ma può cambiare sia la destinazione, e allora perché non produrre crani surgelati precotti da tenere in frigo pronti per l'uso, sia la forma da montare sulla struttura base, ed ecco quindi una pelle fatta di biscotti per cani. Ovviamente questo uomo nuovo, tecnologico e re-ingegnerizzato, non può rivolgersi per i suoi bisogni spirituali alle divinità tradizionali, ma ha bisogno di idoli nuovi, adatti a lui e la sua Augmented Reality. Veder Vroom ci propone a tal fine interessanti sincretismi, dalla donna con tre tette, santificata dal contatto con una scultura sacraligna, fino all'angelo, dall'aureola al neon, più moderno e al passo coi tempi. Difficile dare un giudizio di valore o etico a queste visioni. Forse è meglio lasciare che ci provochino, che ci pongano delle domande su ciò che siamo, su ciò che possiamo diventare, su ciò che saremo. Grazie per la visione!